No vabbè, ragazze, guardate che sta f***ando un carri Ma l'ho distrutto a Thunderbolt Verdaccia Dove spawniamo? Verso A o verso lontano? Ah io sto spawnando Dove? A caso Bene E' impazzito, dove aveva uno? Oh che bello il Panther M10 Guarda, guarda, quello è il pube Non l'ho neanche visto, cioè infatti l'ho fatto a te Guardalo, ha i peli sul pube Ah, e l'avremmo messo tempo fa Dark Legion ha la specie di funzionare Vuoi ripristinare Dark Legion? Ci tira da l'Alt Kanch Perché stiamo andando dritti come dei... Eh, contro l'albero vuoi dire? Noi siamo la banda dei boscaioli Un albero guarda La banda dei boscaioli Ma che chiaro neanche lo prendo l'albero Però tutti tutti infiumbatti nel senso Adesso non neanche preso io Ma perché stiamo andando in centro mappa Ha portato cadavano, ma che sono un paio E' quindi E' quindi... Ma aspetta, com'è che ha fatto morire quello per pallone? C'è uno che si chiama pallone? E' quindi quindi... Bella domanda C'è scritto... Ah no, c'è scritto sotto la maaai punti Eccola, eccolo, vedo uno po' Sarà, cazzo Mancato, cazzo No, mancato anch'io Non lo vedo neanche Ti fermi, mamma mia, sto cazzo di carro Ci sono dimenticati di mettere... Il motore, ci sono dimenticati di mettere tipo tutto Dai, mila alto Ah, l'ho visto Ah, l'ho visto Ah, l'ho visto, ah, l'ho visto, ah Ah, l'ho preso Colpo critico Uno qua davanti Oh Minchia Maga, sugli S2 si sono dimenticati di mettere il motore in freno Porche miseria Cattore, invece, questa vegetazione non lo vedo Distrutto Oh, che cazzo Cazzo Oh, colpito il cingolo Farò come te dici solo per sapere dov'è E' lì, guardalo Oh, mi hai fatto un corpo, mi ha disattivato Mi ha disattivato Dark Reggio si riesce a funzionare di nuovo Termina il processo Fatti attenzione ai VR, ragazzi E' lì, è, da qualche parte Ok, così dovevi prenderlo nel motore, quasi Oh, assist, ma paffanculo Mamma mia Oh, guarda che c'è l'ho Oh, guarda che c'è l'ho Avanziamo, dai Oh, distrutto Attenzione Davanti e sul c'è un altro Bombe No, le bombe Oddio, se scherzate che le ho A me ha preso l'Elkath Dio L'Elkath da dove? Beh, non lo so Da davanti Mi ha preso il DC No, da destra, da destra, ragazzi Ecco, Elkath, a destra A destra A destra ce l'avete attaccato, dove ci sono le foreste Sta venendo fuori, lo vedete Io sono morto proprio, non ho fatto niente No, io non lo vedo No, sì, lo vedo, adesso l'ho visto Beh, sono morto, non ho fatto un cazzo, GG Bello, l'Elkath Distrutto Uff, nice Madonna, non mi aveva visto in quel momento Bellissimo, l'Elkath Eh, cazzo, leggero, veloce Cioè, si è fatto tre kill E OP E OP Eh, però va giù come niente Però E OP Però OP Ma guarda quanti cazzo di aerei Eh, hanno usato solo aerei, praticamente Cioè, hanno usato quegli aerei Perché Esercizi, matte Davanti dirlo, se volo distrutto Col cannone BOMBE, matte, bombe Va tranquillo, indistanti Che tra l'altro qua, splodono subito le bombe Sì, perché gli puoi metterti il timer Qui è in posti te Madonna Cioè, si è uscito appare col cannone e l'aeremo, è impressionante, non succederà mai più una cosa del genere Boo Se infatti, come è venuta le banali con l'autocannone Squad Squad Ma, però è che c'è anche solo un colpo, mi è rimasto Poi dovrò ricaricarci, metterò 200 anni È meglio spercarlo e inizia a ricaricarlo Eh, questo ti trovi davanti a un taiko Sì, ma non c'è il bottone R La tivisione Panzer ti trovi Oh Cazzo è? No, 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 no Ah, è un tiro No, è il Russian Bios Oh, beh No, cazzo Nooo Che è morto Non mi lancio l'artiglieria addosso Cazzo Te ha devastato tipo È deciso, è peccato mio Ti ha devastato tia Sì, sono due artiglieria Dimite, guarda come ci sono messi qua non puoi pensavo di star giocando a war thunder no non mi posso muover ci sto provando ma niente no maledetti ah uno si è ucciso da solo cosa? mi ha fatto morire con la tua esplosione quanto gli sta bene ma che tristezza cioè c'è quello ziz che è apparentemente inutile e non è neanche morto oltretutto si ma il problema è che è ancora vivo cioè quello è il problema più grosso oddio le ali oddio le bombe ah le ha messo il timer merda panther d in pericolo c'hanno loro dove cazzo è l'elica? dove cazzo è l'elica? io devo fare una foto assolutamente eccolo aziz 43 non mi sa che l'hanno appena distrutta perchè si è trascosione enorme ah no che non andava a lula perchè così eccederei il bias ah la distrutta mentre gli sparavano che parla ma scusa tu hai tutte le relazioni fatte no tutto tipo quale non hai fatto boh i giapponesi e basta c'è ma non ho completato tutto no 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 ma che l'ho finito tutto ma c'è il ct c'è il ct tank cazzo matto spara colpo critico io boh il tuo boh ehi appiccio a termini nuovo capo il campo scritto roger per la posizione di cosa che arriva stiamo rende attenzione via di artiglieria vai con la ziz vai durante l'area uno due tre eh ho fatto un sacco di punti cazzo ho fatto quattro kill di carri uno degli aerei no vabbè ragazzo è il ziz 42 che sta affrontando un carro oh l'ho distrutto al thunderbolt merdaccia l'ha distrutto non ci credo a cosa? il ca... ah nel thunderbolt dici il carro? si ah pensavo l'aereo io vabbè anche se fossi c'è un anti-aereo eh ma è bello che stavo sparando anche il ziz 43 ah ma è vero si si no però abbiamo perso di poco nooo il nemico vincerà il nemico vincerà non è vero non ci credo ho un albero vado ho un albero ah ci rimane 3 contraeree 3 contraeree 2 carri nostri o loro colpo finale nostri o loro colpo finale oh eh oh ah la il ciorgio cazzo